Il piano di riordino territoriale in attuazione della legge prevede sostanzialmente che tutto il territorio regionale venga suddiviso in perimetri territoriali che comprendono aggregazioni di comuni, che abbiano caratteristiche di omogeneità, contiguità e che sostanzialmente si fondano su una matrice, che è la matrice degli ambiti socioassistenziali e dei distretti sanitari. Sono 17 organizzazioni territoriali che vedono insieme i comuni su una storica e consolidata esperienza di lavoro insieme. È una proposta assolutamente aperta, i confini sono aperti, gli enti locali del territorio, gli amministratori, i sindaci, in questi 60 giorni dalla pubblicazione di questa delibera, avranno il tempo di formulare le loro proposte all'amministrazione regionale, alla giunta, che rimane in questi 60 giorni a completa disposizione per una costante interlocuzione, un accompagnamento in questa fase.